avanti avanti dai uno in meno mamma mia aspetta aspetta dai vai 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 come fatta ancora stai giocando a cosa spado l'abbiamo fatto vai davanti a te bobo ahhh si è venuto in giocardo ho imbrogliato con i tasti saliamo intanto non è il mio bolt questo ok oddio si vede un po' la pesantezza del personaggio eh vado si no gente vado che colpa ma comunque mi piace sta maff che carina eh poi la visibilità è non è male è migliorata si 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 vedono i miei amici mi hanno guidato un po' di delgine è casino eh resisti sono qui per aiutarmi siamo attaccato Charlie uno no cazzo non ho porca droga si parte si si vai a rossi disponibili per il lancio si voglio un aggiornamento i rossi hanno un controllo dei settori maggiore sono in vantaggio si ma dov'eri cazzo guarda questo come si nasconde vabbè sono nel tunnel ne ho uccisi due non c'è l'antiaereo un po' è andato l'elicottero? si ma cazzo brava vieniamo a coprire l'antiaerea sopra dove sei? oh cazzo c'è l'elicottero fatto ho fatto l'assist guarda questo da dove? da fuori suo figlio di puttana su ho fatto tre camper qui si è morto ma c'è gente che sono proprio davanti va da là stanno vai difendiamo qua fra il mondo è lì l'ispettore bravo è in mano al nemico avanziamo un pochino copriamo questo spazio qua vai se perdiamo altre truppe è finita oh mi sparano ma no cosa è finito? mamma mia quando ne ho fatti là nooo vabbè vabbè sta cazzato della mattellata pure qua l'anno vabbè 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 che per voi la granata tutta per loro uuuu sta granata timer fa un po' cagare vabbè abbastanza abbastanza abbiamo perso il controllo di Charlie 1 sto sceso posso sceso dove sbaglio aspetta nooo ah ma è amico questo come hai fatto a salire? con una ziffle c'è uno qua i russi controllano la maggior parte dei settori hanno preso il settore alfa hanno preso il settore alfa cazzo è finito le munizie cazzo è finito le munizie una granata ci penso io cazzo è finito le munizie esplosivo pronto un sicurezza le nostre truppe hanno catturato il settore Charlie abbiamo appena perso il controllo di un obiettivo bello grande si vabbè ancora quello ma vaffanculo si vabbè vabbè questo sta proprio camperato qua sopra il nemico controlla il settore bravo non 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 è andato in quel punto gente stiamo perdendo unità C'è Maria, c'è una Maria fatta L'ho fatta, l'ho fatta con l'antiaereo Grande Voglio farmi quell'elicottero di merda Coprimi Chi è che mi ha buttato il coso? Ma chi è? Ma chi è? Sì vabbè Sì vabbè